Guai a chiedergli se preferisce il cinema, la tv o il teatro. Fabrizio Gifuni risponde che è un attore, punto. Un attore che ama sprofondare in qualcun altro quando recita sul grande e piccolo schermo e che si diverte a costruire e interpretare testi quando si dà al teatro. La separazione delle carriere di attore esordisce Gifuni nella sua lezione di cinema al Cursal di Bari è una tutta italiana. Per alcuni motivi storici in parte si è determinata per alcuni decenni in questo paese adesso fortunatamente insomma negli ultimi anni oramai da un po' si sta tornando a rimischiare il mazzo delle carte in maniera costruttiva e sana. Puntualissimo alle 11 spaccate si presenta a lezione sul palco del Cursal, per due ore risponde alle domande del giornalista Marco Spagnoli e del pubblico. Racconta dei suoi corpo a corpo coi personaggi e col pubblico, critica le improvvisazioni del mestiere d'attore e l'oscenità di far entrare cose indegne nel grande calderone dello spettacolo. Lui che è stato conosciuto e apprezzato per la fiction di Rai 1 C'era una volta la città dei matti su Franco Basaglia sostiene che il pubblico è molto meno scemo di quanto vogliano far credere certi produttori. La voce per Gifuni è quasi un'ossessione e la chiave di volta preferita per entrare nei personaggi. Ogni attore ha i suoi strumenti preferiti o gli strumenti che maneggia con più facilità e sicuramente la voce, l'attenzione o l'ossessione come dicevi tu alla voce è una cosa che mi ha sempre interessato. Romano, siciliano, pugliese è il mix che fa di Fabrizio Gifuni un attore attento anche ai dialetti. Lei è per metà pugliese di Lucera, che legame ha con questa terra in cui dice torna non appena può? Un legame molto forte, molto bello, nel senso che c'è intanto una bella continuità, nel senso che è una regione in cui torno molto spesso più volte l'anno, sia per riposarmi, sia per stare con la mia famiglia, sia per lavorare. Quindi è un rapporto molto forte, è un luogo che io amo molto. Ci dice qualcosa di pugliese? Che taggiate, vediamo!